Cari amati nostri fratelli e sorelle, vi inviamo una benedizione di buona giornata, con amore e incoraggiamento per un giorno che sia il migliore in tutto ciò che fate. Una benedizione che vi farà sorridere oggi, sorridere invece di piangere. Possa la mattina essere piena di risate, ridere via la tristezza, guardare il lato positivo anziché il negativo. Benediciamo la vostra giornata, cari fratelli e sorelle. Mew Jan Asaldo in Magica Orcia ha appena avuto un sogno in cui la nostra signora non può più darci il messaggio a causa di questo evento orribile. Quindi cosa è successo in questo sogno? La risposta sarà rivelata a tutti voi in questo video oggi. Per garantire che il maggior numero di persone possibile veda questo video, vi preghiamo gentilmente di prendervi un momento per condividerlo e iscrivervi a questo canale. Possa questo messaggio toccare il vostro cuore e aiutare ad avvicinarvi alla conversazione delle anime e alla conversione dei peccatori. Se credete, digitate PAMEN. E cari fratelli e sorelle, per favore guardate fino alla fine di questo video, poiché ciò ci motiverà a fare altri video. La preghiera è importante perché ci aiuta a rimanere vicini a Dio. Quando preghiamo, apriamo i nostri cuori a Lui e Lui è in grado di agire in noi e attraverso di noi. La preghiera ci aiuta anche a crescere nella nostra relazione con Dio. Noi, fratelli e sorelle in Cristo, dobbiamo unire le mani e pregare insieme per ricevere la grazia di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. O mio Dio, Tu conosci la mia grande povertà e miseria e che da solo non posso fare nulla. Tu sai quanto io sia indegno di questa infinita grazia e solo Tu puoi rendermi degno, poiché sei così buono da invitarmi a Te. Aggiungi questa grazia in più a tutte le altre per prepararmi a Te. Non lasciare mai che io sia colpevole del tuo corpo e del tuo sangue in una comunione indegna. Per l'amore di questo stesso sangue prezioso che Tu hai versato per me, liberami, o Gesù, da questo grande male. Amen. Mujana Drachicevic Saldo è nata il 18 marzo 1965. È stata la seconda veggente a vedere la Vergine Maria quando apparve per la prima volta a Mezzugorlie il 24 giugno 1981. Ha appena avuto un sogno riguardo alla Nostra Signora, nel sogno la Nostra Signora chiama urgentemente gli esseri umani e non può darci più l'altro messaggio. Ora, cari fratelli e sorelle in Cristo, ascoltiamo questo messaggio urgente della Nostra Signora. Dobbiamo ascoltare attentamente e prestare attenzione ad ogni parola che ci ha dato. Amati figli del mio cuore immacolato, venite a mio figlio, vi attende con amore infinito. Vi chiedo di continuare ad essere obbedienti a mio figlio, diventando figli migliori ogni giorno e continuando a sostenere l'autentico magistero della chiesa di mio figlio. In questo giorno, quando tanti dei miei figli vengono da me, amati figli, costruite le dimore dedicate ai nostri sacri cuori e ai rifugi desiderati da mio figlio, affinché servano da rifugi per coloro che vi risiedono. Dovete salvaguardare ciò di cui avete bisogno per sopravvivere, evitare la confusione e mantenere la comunicazione ininterrotta, perché i nostri sacri cuori sono il rifugio in cui dovete mantenervi adeguatamente attrezzati come templi dello Spirito Santo. Preparatevi, perché mio figlio vi invierà tutto ciò di cui avete bisogno per sopravvivere. Se non siete in grado di raccogliere ciò che sapete essere necessario materialmente, la fede è essenziale per seguire il cammino di mio figlio e diventa ancora più importante quando l'umanità percepisce oscurità in tutto ciò che incontra. Amati figli del mio cuore, questo potrebbe essere il mio ultimo messaggio. Perché Satana vuole silenziare il messaggio del cielo attraverso i vostri peccati. I fedeli diventano sempre più infedeli giorno dopo giorno e i peccati diventano sempre più grandi. Questa triste storia mi fa piangere e mi deprime. Quando ho cercato di dare il messaggio agli esseri umani, Satana ha cercato di silenziare tutti i miei messaggi. La piaga non è mai stata vista nella storia umana e verrà da quest'azione di Satana. Quando Satana silenzierà il mio messaggio agli esseri umani, non saprete cosa vi accadrà in futuro e i miei amati figli saranno nel caos e nel panico. I miei piccoli figli del mio cuore non sapranno come affrontare il futuro, il che rende il mio anno più triste che mai. Il fuoco cadrà dal cielo per 70 ore in quel giorno e la terra sarà distrutta dall'ira del diavolo. L'umanità sarà in parte distrutta, il mondo sarà in rovina, ci sarà desolazione e morte. La terribile piaga che non è mai stata vista nella storia umana durerà tre giorni. Amati figli del mio cuore, dovete pentirvi dei vostri peccati ogni giorno per combattere con Satana in questa battaglia. I vostri peccati creano il cambiamento affinché Satana possa silenziare il mio messaggio. Se vi pentite dei vostri peccati, Satana non può fare nulla. Ogni giorno alle 6 del mattino e alle 9 di sera, dovete pregare e leggere la Bibbia contro il diavolo. Avete due giorni per pentirvi e cambiare voi stessi, è l'unico modo per proteggere la terra, per proteggere voi stessi e i vostri fratelli e sorelle e per ricevere il mio messaggio, la mia grazia. Tornate, piccoli figli, venite a mio figlio che vi sta aspettando, venite a questa madre. Questa generazione sta vivendo ciò che altri della loro generazione non hanno sperimentato, causando a se stessi più dolore e solitudine, rifiutando mio figlio. È difficile per loro comprendere le vie divine, le loro orecchie sono chiuse, i loro occhi non vedono, nelle loro menti negano tutto, portandoli a cadere nella disperazione e nell'inquietudine, in una tragedia apparentemente senza fine. Vi benedico, vi amo, non abbiate paura. Madre Maria Uno dei versetti biblici sul pentimento dai peccati si trova in Atti degli Apostoli 3 e 19, ravvedetevi dunque e convertitevi affinché i vostri peccati siano cancellati. Questo versetto enfatizza l'importanza del pentimento, che implica riconoscere i propri errori, cambiare cuore e mente e cercare il perdono da Dio. Attraverso il pentimento, le persone possono sperimentare il perdono e la purificazione dei loro peccati, consentendo una relazione ristabilita con Dio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen Ecco l'ancella del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Grazie per aver guardato fino alla fine del nostro video, cari fratelli e sorelle. Senza paura e con più fede che in passato, continuiamo nella fede. Rimani benedetto e continua a pregare perché Dio ci mostri le sue grazie e benedizioni. Dio ci benedica e ci protegga. Amen